Rapina con inseguimento e arresto lampo, ieri sera attorno alle 19.15 in piazza Costanzi a Fano, ai danni della tabaccheria Rodeghiero. A compiere il gesto un senegalese di 35 anni già noto alle forze dell'ordine per reati simili, il quale, dopo aver acquistato un biglietto dell'autobus, si è allontanato dalla tabaccheria per farvi ritorno poco dopo e con la scusa di effettuare una giocata all'otto elettronico, ha atteso il momento giusto ed è saltato dietro il bancone e preso il cassetto con i soldi contenente pochi spiccioli, neanche 100 euro, e si è dato a gambe levate. Già da Rodeghiero, presente assieme alla madre in quel momento, non ci ha pensato su nemmeno un secondo e si è gettata al suo inseguimento, mentre col cellulare avvertiva la polizia che in pochissimi minuti ha messo in moto le volanti per rintracciare il malvivente. Non ho avuto minimamente paura, avevo tanta rabbia, veniamo da un momento difficile in cui ne abbiamo viste tante e dopo averlo superato non accettavo proprio che uno così ci rapinasse. Questo ha dichiarato Giada, la quale è stata anche strattonata violentemente dal senegalese, che ha poi continuato la sua fuga nella via laterale per dirigersi verso il Pincio. Pochi minuti dopo, gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, messi sulle tracce dalla titolare, hanno bloccato e ammanettato in pochi minuti il rapinatore davanti alla chiesa di San Cristoforo, dove stava aspettando l'autobus per il quale aveva acquistato il biglietto.